Il sovraffollamento di detenuti nelle carceri italiane ai limiti della vivibilità. Le condizioni della casa circondariale di Gazzi si sono allineate in passato a questo sistema, soprattutto perché Messina è sede di corte d'appello ed è costretta ad ospitare tanti pregiudicati provenienti da altre zone della Sicilia in vista dei processi. A sollevare il caso da sempre sono i radicali italiani con il compianto Marco Pannella. Oggi in città ha anche l'ex parlamentare della Commissione Giustizia Rita Bernardini che sta visitando i vari stabili carcerari di tutta l'isola. Sempre militante nello schieramento radicale e nella lotta per i diritti civili e politici, la Bernardini valuta il penitenziario messinese migliore di altri, però con le sue carenze strutturali di base e con una capienza di 280-300 posti che viene superata a rotazione. Ancora scarso ricambio per l'organico di polizia e assente la figura del garante comunale per i detenuti, richiesta più volte dal rappresentante radicale Saro Visicaro al sindaco a Corinti. Lo abbiamo visitato pre-sentenza Torreggiani, quella che ha punito l'Italia per trattamenti rumani e degradanti, e anche dopo. Il problema, qualche cosa sicuramente è migliorata, ma il problema di fondo di un carcere illegale che non rispetta i diritti umani fondamentali, almeno fino a poco tempo fa, persisteva. Molte delle persone che stanno in carcere in realtà potrebbero scontare un'altra pena, che non sia lo stare chiusi in cella per 20 ore al giorno senza fare niente, che si è rivelata nel corso del tempo molto più efficace ai fini della recidiva. È una lettera che hanno scritto alcuni detenuti che stanno scontando una pena alternativa, e l'hanno scritta in ricordo di Marco Pannella. Caro Marco, fisicamente hai mese scomparso, ma la tua anima vivrà per sempre nel nostro cuore.